L'attacco rosso-nero con Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Pietro Pellegri ha dimostrato di essere un attacco un po' fragile non dal punto di vista tecnico dove il gioca di valore di Olivier Giroud e di Zlatan Ibrahimovic è noto a tutti e ovviamente è risaputo ma è molto fragile perché Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud ormai hanno una certa età e Pietro Pellegri nonostante la giovane età, nonostante rappresenti un buon prospetto è apparso troppo fragile in questa avventura rosso-nera che sta confermando quanto è avvenuto, quanto è accaduto con la maglia del Monaco dove era in qualche modo vittima continuamente di infortuni e infortuni muscolari quindi Milan vuole cautelarsi, vuole cercare una terza punta giovane, una terza punta che può in qualche modo crescere alle spalle di Zlatan e alle spalle di Olivier ma che possa farsi trovare pronto, farsi trovare in qualche modo sempre a disposizione perché Milan non può permettersi una terza punta giovane che quando c'è il momento, quando c'è la chiamata non è pronta per problemi fisici perché il Milan ha due attaccanti di una certa età, il discorso sarebbe opposto se avesse un Vlaovic, se avesse un Belotti e quindi un Pietro Pellegri dispiacerebbe anche perderlo e non in qualche modo valutarlo a pieno regime purtroppo in questo momento il Milan deve fare una scelta, non può aspettare Pietro Pellegri e dico è un peccato perché secondo me dei colpi li ha purtroppo per il martoriato degli infortuni fisici quindi Milan sta cercando un altro attaccante, il Milan, lo sappiamo tutti, sta cercando di accelerare per questo giocatore che vedete nella foto, stiamo parlando di Colo Muani, giocatore in forza al Nant giocatore che piace già tantissimo al Milan, un Milan che si è mosso d'anticipo rispetto alla concorrenza si è mosso prima di tutti con Moncada ha fatto delle relazioni positive su questo giocatore in questo momento però il momento è di accelerare, perché questo? Perché ci sono tante squadre c'è una questione di concorrenza da tenere in considerazione, in forte considerazione perché sembrerebbe che siano entrate anche nella trattativa col giocatore, ricordiamo i scadenzi di contratto al 30 giugno 2022, due squadre, l'Iantrack di Francoforte sempre molto attenta al mercato francese, al mercato dei giovani e il Marsiglia Marsiglia che vorrebbe valutare, valuterebbe l'acquisto di Colo Muani un attaccante che è partito bene quest'anno, che sta confermando quanto ha dimostrato nelle stagioni passate, ricordo che questa stagione ha fatto già 7 gol e 2 assist quindi numeri comunque importanti seppur in un campionato come quello francese dove secondo me è di livello più basso, più inferiore rispetto al campionato italiano seppur più fisico ma meno tattico, quindi dove i giocatori anche lì davanti hanno maggior tempo di qualche modo per pensare, per capire come mettere in difficoltà gli avversari e quindi stiamo cercando nel Milan di accelerare per questo giocatore potrebbe arrivare lui, potrebbe arrivare, non è una priorità di calcio a mercato ma potrebbe arrivare lui nel mercato di gennaio così da anticipare la concorrenza avere 6 mesi per capire bene come funziona, come si muove come si muove la Serie A, come si muovono i difensori italiani e quindi prendere maggiore confidenza se è un attaccante su cui Milan vuole puntare, punterà molto probabilmente e in questo momento crescerà senza pressione alle spalle di due mostri sacri come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic fatemi sapere cosa ne pensate di questo ragazzo magari qualcuno di voi appassionato di scouting ha avuto modo di visionarlo nel campionato di Ligue 1 e come sempre, forza Milan e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera grazie a tutti